Gli appelli lanciati da Pamela Prati che mesi fa aveva chiesto direttamente ad Alfonso Signorini e da Maria De Filippi l'opportunità di tornare a lavorare dopo il clamoroso affaire Marc Caltagirone hanno avuto effetto. Si vocifera che l'ex volto del bagaglino potrebbe ritornare al GF VIP, dopo una passata esperienza alquanto controversa che ha scatenato un polverone. La presenza della Prati come vippona del reality show di Canale 5 è altamente probabile come Murmurail Web, che ha risposto al post di Signorini che continua a lanciare indizi per scoprire l'identità dei prossimi geffini. Dopo aver confermato la presenza della rapper di origini marocchine e spagnole, Cadia Rodriguez, il conduttore è passato a svelare l'identità del secondo coinquilino della casa di Cinecittà. Alfonso Signorini nell'annunciare la seconda vippona della settima edizione del GF VIP ha commentato su Instagram nel lanciare il suo indizio, indizio NR2. La seconda concorrente del cancelletto GF VIP 7 lo ha dimenticato sul taxi. Di chi si tratta? Un contenuto a cui ha allegato la foto di uno smalto rosso, un prodotto cosmetico per cui Pamela Prati ha un debole. Gli utenti che ricordano come si è conclusa l'avventura della Prati durante il GF VIP 1, quando eliminata dal gioco ha chiesto di chiamarle un taxi, potrebbe rientrare nel bunker di Cinecittà per riscattarsi dopo anni difficili per la sua professione a causa soprattutto dello scandalo mediatico del matrimonio fantasma con Marc Caltagirone. L'indizio di Signorini ha innescato la calda partecipazione degli internauti che hanno firmato una valanga di commenti nei quali hanno fatto soprattutto il nome della Prati come possibile vippona del reality. Non sono mancati poi pareri contrariati, alcuni non hanno apprezzato il fatto che si siano riciclato in un nome delle passate edizioni del GF VIP. Le percentuali di vedere la Showgirls are da settembre nel reality più spiato della televisione sono alte come ha svelato anche Davide Maggio che ha condiviso con i suoi lettori un retroscena alquanto interessante. La Prati potrà partecipare al reality dopo aver trovato una soluzione legata alla querela nei confronti di Mediaset e di Barbara D'Urso per l'affaire Marc Caltagirone.